buongiorno benvenuto come ti chiami ciao ora il mondo ascolta una cortesia una cortesia detto biondo ha detto biondo va bene biondissimo ascoltami sto lasciando le ultime parole no ma assolutamente no quando siamo qui in aereo mettete la mascherina vi chiedo la cortesia mettila perché purtroppo ci rompono le scatole devi metterla bravo metti la sua adesso perché sennò ci rompono le scatoline per normative grazie vai tranquillo ascolta da dove vieni si sente infatti te l'ho chiesto apposta sono di bolzano ascoltami regalo scelta tua allora è un regalo suo dalla moglie moglie bravissima gli hai fatto pensavo che lei te l'avesse regalato a lei e tu l'hai regalato e detto va bene mentre lo faccio anch'io vabbè quindi comunque è sempre merito suo perché lei che ha voluto portarti quindi è merito suo comunque tu hai solo regalato giusto sistematevi bene tutto e mi raccomando allora raimondo io adesso ti lascio con lui raimondi scusami ma il nome fabio fabio perdona mi avevo capito raimondo fabio ok biondo allora facciamo così dai silenzio biondo si lascio con fabiano che finisce di imbragarti per bene buon divertimento goditelo ridi fai tanto ci pensa lui portarti giù ciao assolutamente sì ma sì vai vedrai che andrà tutto bene ci diamo dopo che mi dite com'è andata ciao il vostro ultimo lancio ragazzi è il primo è il primo e ultimo dobbiamo fare le cose per bene l'idea di paolo giusto colpevole la moglie prima ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.